Il mondo della cultura tiene, nonostante tutto. Potrebbe essere questa l'estrema sintesi del rapporto impresa-cultura sul 2020, l'anno in cui è iniziata la pandemia che ancora oggi costringe ogni comparto economico a continui alti e bassi. In Italia la cultura è stato il settore più colpito, ma la Toscana, in particolar modo Firenze, hanno limitato i danni. Tra i 15 comuni più popolosi italiani è di gran lunga quello che ha mantenuto la quota più alta di investimento in cultura. Un'occasione di rilancio è rappresentata dai fondi del PNRR, ma il mondo della cultura deve implementare la propria capacità di intercettare anche investimenti privati. Riuscire ad acquisire le conoscenze, gli strumenti, la forza e la convinzione che la cultura non può essere solo legata agli investimenti pubblici. Per questo noi riteniamo che anche le agevolazioni fiscali riferite alle aziende, alle aziende e anche dei servizi pubblici, possa essere un ulteriore volano. E dovremmo riuscire ad essere bravi, a essere in grado di fare cultura, a prescindere dagli investimenti pubblici. Il rapporto, elaborato da FederCulture, è stato presentato da CISPEL Toscana con il supporto della Fondazione CR Firenze. Da porte di molte istituzioni...